Si è sentito male in classe questa mattina intorno alle 9. Inutili i soccorsi. Un ragazzino di 14 anni è morto all'Istituto Olivetti di Fano. Compagni sotto shock per la tragedia che si è svolta sotto i loro occhi. Subito sono scattati i soccorsi. Il personale del 118 ha tentato di rianimare il ragazzino anche con l'uso del defibrillatore, ma non c'è stato nulla da fare. Non è stata disposta autopsia. La morte è sopraggiunta per un malore dovuto a cause naturali. Come ha constatato anche il magistrato della procura di Pesaro. Sui social si sono scatenati i Novaks. Un parente è intervenuto chiedendo la decenza di tacere.